Negli anni Ottanta, quando venne inaugurata, si presentò ai cittadini come un nuovo polo d'attrazione commerciale e sociale. Oggi la piastra è il luogo dove restano accese poche vetrine. Lì dovrebbe sorgere un mercato agricolo, a pochi metri di distanza dalla sede provinciale della Coldiretti di Sondrio. Così era previsto nel bando per la rinascita del quartiere sud-ovest della città. Nel frattempo Coldiretti ha il lavoro per aprire un mercato di prodotti 20 km 0 in Piazza Lebertacchi vicino alla stazione. Investimento alternativo a quello della piastra? Noi non abbiamo mai detto di no, ci crediamo. Non pensiamo che questa sia la risoluzione dei problemi della piastra. Noi viviamo alla piastra e il problema della piastra è che la gente non c'è più, non c'è più nessuna attività. Noi teniamo duro, ma non so ancora per quanto perché viviamo in un isolamento, anche con un alto degrado. Per cui noi vorremmo confrontarci con la nuova amministrazione per capire l'opportunità e la strategia della nuova amministrazione sulla piastra. Poi noi sicuramente daremo una mano per fare qualcosa di positivo alla piastra. Possono convivere due mercati agricoli, quindi la piastra e l'intervento che state attuando in Piazza Lebertacchi? Sicuramente sì, anzi le dirò di più. Sono circolate voci che volevamo chiudere il mercato a Piazza Vecchia, assolutamente non è vero, anzi abbiamo implementato in Piazza Le Vecchia anche la presenza di agricoltori. Nei mercati agricoli sono frequentati solo da aziende agricole, certificate e controllate dal circuito di Campania Amica tramite CSQA. Un altro mercato solo dove è possibile farlo, anzi le dirò di più, già 22 aziende del circuito di Campania Amica da Valtellina hanno aderito, hanno dato la loro ok all'adesione del nuovo mercato di Campania Amica vicino alla stazione. Porteremo le scuole del territorio a vedere e a parlare con gli agricoltori, ma noi non abbiamo mai detto che per la piastra non ci siamo. Questi mercati come potrebbero convivere con il commercio tradizionale e anche con gli ambulanti? Noi non ci poniamo di fronte ai commercianti e agli ambulanti che stanno facendo e sono da dare una medaglia per il lavoro che stanno facendo sui territori e tenere vive ancora quelle che sono le tradizioni. Noi cerchiamo di dare voce agli agricoltori.